Ed eccolo qui, bello, come non mai. Aspetta, che che sa... Lara! No! Ma i leoni! Ma nel monastero di San Francesco! Ho capito che è l'amico degli animali, però forse è un po' troppo. Morto? E vabbè, è finita così. È finita subito così. Il mio compagno ha interrotto il lavoro solo per venirsi a sentire la sigla. Mochi è tornato. Buon lavoro! Ma il suo compagno! Allora, io farei un discorsetto al compagno, eh, comunque. Vorrei dire... Posso dire che le tue sigle mi riportano negli anni 90? Sono contenta che ti piacciono. Fra l'altro, sono così contenta che ti piacciono che le cambieremo. Nel senso... Sembra una roba detta perché sono stronza. Non per questo, ma le cambieremo perché vorrei cambiarle. Tanto tempo che non cambio le sigle. Quindi le vorrei quantomeno svecchiare un pochino. Con sempre canzoni di altri templi, ma templi un po' più recenti. Guarda lì. Salto all'indietro come una sola... No, non funziona. Quanto è alto il volume del tutto, ragazzi? Ora le metto in 4K. No, non le metto in 4K. Adoro anche io questa sigla. Devo dire che... Allora, la sigla delle boobies. Credo che sia una delle mie cose meglio riuscite in questo canale. Come si sprea? Un poco alto. Ok. Perché soprattutto quando sparo... Pi, 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 pi. Sì, forse è un po' troppo alto. Lo mettiamo un po' più basso. Non ho trovato ancora niente di meglio delle pistolette. Ho il fucile, ma non lo uso. Io non ho mai utilizzato altra roba all'infuori delle mie pistole. Tomb Raider... I pivelli lo fanno con le altre cose. I veri intenditori. Tomb Raider lo giocano con le mani nude. Ciao, Bandi! Che cos'è questa mano? Bandi! Bentornos per tre mesi! Sono tutte belle, anche figo. Yooka Lee Princess. È vero. In realtà le sigle sono... Aspetta, che succede? C'ho fatto? C'ho sbloccato? Cosa ho sbloccato? Le sigle sono molto soddisfatta di averle fatte. Perché sono quasi tutte robe di cui... Non mi dispiace! Non me ne pento! La porta lì! Eh, ma non mi serve la porta lì! Dovrei capire dove spostare questo coso. Sì, è la porta su, ma io non voglio la porta su. Io voglio la porta giù. Concordate con me? Che vogliamo la porta giù? Perché la porta su non ci posso nemmeno arrivare. Vedi? 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 Tutte le cose portano alla porta giusta. Amici, fra l'altro mi avete messo in categoria? Le porte servono sempre. Oh, ma che bel monaster... Ma che spaccimma di posto è? Ma scusatemi tanto. Uman me bubea! Uyogoi! Ma ci ricordiamo la giornata. Mannaggia! Puffa! Ma... Oddio! Oddio! Ho sparato alla chat! Incredibile! Amici! Ma non mi avevate detto che eravate in Tomb Raider? Incredibile! Sta ancora al secondo mondo. Sì, sì, sì. Siamo... Ce la stiamo prendendo veramente molto comoda. Devo dire la verità. Molto, molto comoda. E pensa che dobbiamo farli tutti e tre. Brava! Che comica! Lo so, ragazzi. Ho studiato comicità. All'università del comicismo. Non mi spari, troppo tardi. Cioè, bisogno... Che bisogno c'era di farci sterminare l'arca di Noè? Ma seriamente? Ma poi in che cazzo di posto siamo che... In che cazzo di posto siamo, punto e basta? In che cazzo di posto siamo che ci sono i scimpanzei, i leoni? Ma che è? Ci sono un coccodrille e un orangotango. Due piccoli serpenti e l'aquila reale. Battutona. È in ve... Avete riso? Io lo so che avete riso. Portala un po' dove... Maronne, i pumpea! Ti giuro, ti sparo nell'ano. Quando è vero, vippo franco. Aia! Lana! Sguscia! Fandepela! No, mi devo curà. Ho preso la morte nel... Anzi, aspettate, aspettate. Questo è arrivato il momento. È arrivato il momento. Ragazzi, è questo il momento. È questo il momento. Se magari Lara smette di... Giuro, ti stacco... Ti stacco il culo. Ti sparo direttamente nel culo. Vieni qui. Vieni qui! Franco! Franco! Franco, dove sei andato? Ciao, buona! Nell'anno no, fa male. Ma lui se lo merita. Mi è rimasto quattro colpi. Ma io non lo so. Mi metto anche a piangere, guarda. Ma dalla felicità. Questo così random. Comunque è vero, così... Ciao, vadele! Se ti giri fino ad usare due pistole, l'ammazzi prima. E non penso, perché non l'ho ammazzato prima. E' abbonato anche lui. Non l'ho visto tra i nomi abbonati. Questo compare e scompare quando fai un tot di danno. Sì, no, immaginavo che non lo potessi uccidere. Per carità, non era quello il punto. Il punto era... Ma chi lo vuole? Ma io non lo voglio nella mia vita. Allora, ragas. Ragas. Perfetto, Lara. Veramente la sorella del cazzo. Bravissima. Bravissima. Gli sparavi solo con la destra? Ma la destra... Allora. Dai, bella mamma. Allora, secondo voi, io riesco ad arrivare... No, ma Lara non ci arriva lì. No, ragazzi, ma non ci arriva lì. No, non ci arriva lì. Sali bene come tu sai fare. Non mi prendete in giro. Che io sto provando a imparare. No, ragazzi, vorrei capire come arrivo lì. Lara, se magari facciamo le strumenti... La vuoi smettere di toccare qualsiasi cosa? Ma io non lo so. Prende e tocca. Nel dubbio salverei e non si sa mai. E anche questo è vero. Quindi facciamo ciò che va fatto. Salvare. Bravi che mi ricordate di salvare. Salvare è importante. Se non lo fai... Un po' stronzo lo sei. Cercavano di capire dove mi posso chiavare. Ma non vedo nulla. Aia. Perché è arrivato lui. Gli ho sparato. Ma ha fatto qualcosa? Mi ha cambiato qualche... Qualche cosa? Ma poi, fra l'altro, dove è scappato? Dove è andato? Ciao, lupo! Buon pomeriggio! Cioè, dove è scappato? Ciao, Kimberly! Non è che posso ritoccare queste... Sì. Ma non credo che sia questo il punto. No? Compare e spara due colpi e scompare. È mortacci sua, però. L'hanno preso gli alieni. Sì, è sparito. È letteralmente sparito. È entrato nella lavatrice, pure lui. Ha preso ed è entrato nella lavatrice. Torniamo a metterci un attimo questa roba a posto come prima. Anche se di là si era aperta l'altra porta. Chiama i carabinieri. Eh, non prende la linea qua. Sta facendo... Avete sentito che c'era un... Un rospo? Aspetta, vado a riabbassare di nuovo la leva. Avete sentito che c'era un rospo? Io sentito un rospo. C'è un fantasma? Ma io non lo so. Era lei che faceva lo sforzo. Ammazza! Vabbè, allora. Io penso che questa roba non debba più utilizzarla. Era Lara che usava lo sforzo. Sì, che è quello che uso io quando vado in bagno. Sto pensando. Perché altrimenti quel geroglifico qui... È qualcosa di intoccabile? No, non è un qualcosa di toccabile. Scusatemi. Sbagliato, volevo mettere questo. Che almeno così... Come te con le flessioni. Non citate le mie flessioni. Le mie flessioni erano perfette. Bellissime. Statuarie. Scolpite nel ventre. Come si vede bene così? Sì, no, si vede sicuramente più luminoso. Mortacci loro. Ma perché l'hanno fatto così basso di luminosità? Ciao, ble! Perché io quella mazza la posso spostare... Quella mazza la posso spostare soltanto fin qui. Ma ragazzi, io vi direi a sto punto... Proviamo a saltare di qua. Sì, sto giocando la Remastered. Ok, doppi sensi che diventa Lara Soft. Beh, oddio. Soft lo è. Dipende dai punti di vista. Dipende da che cosa intendi tu per softness. Ciao, sbunsius. Ah, ma io non posso... Ah, ah! Aspetta, no. Forse... Possiamo fare così. Forse ho trovato. Stavi meglio prima. Così? Sì, stavo meglio prima. Infatti era di là. Pensavo che fosse questa, quella piccola. Devo tirare fuori il bicchiere per la chat? No, che noi siamo... Ma cosa sono queste emoticon disgustose? Tabula. Ma ti facevo una persona di mondo. Credevo nei tuoi buoni propositi per Capodanno. Oggi non urla. Rosario, ma che sono una scimmia urlatrice? Ma io non ce l'hai capita. No, lei è... Disse dopo aver urlato no, Lara. Tiè. Io sapeva. Era così facile. Sei una partenopea semplice. Ehi. Ma io non lo so. Allora, a destra o a sinistra? Ragazzi, io provo di qua. Se nene! Se nene non era la cosa giusta da dire. Devo imparare questo fatto del... Comunque del... Dritto. È contro il muro. È champagne speciale. Alcune signore chiamano gioia questa bevanda. Sì, sì. Ma che signore conosci? No, Kenshiro è il primo. Secondo me dobbiamo andare a destra. Secondo me è indifferente, perché le altezze sono uguali. Secondo me è indifferente, perché le altezze sono uguali. E che io dovevo fare Pif. Sigdick. Sagadook. Devo ancora imparare un po' a gestirmi, a calibrarmi i salti. Allora, Lara. Sigdick. Bravissima. Bravissima donna. Che brava. Sistemata. Valorosa guerriera. No, no. Per favore. Non mi dire che sono venuta qui dentro per nulla. Mi spoglio. Te lo giuro. Mi spoglio. Mi spoglio. E vendo le mie mutande al miglior offerente. È inutile. È inutile. Inutile. L'inutilità. Ah, ma lì c'è un medicist. Eh, come lo prendo? Complicato. Tabula buona da quando? Ah, 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 ah. Nu come nu da, rachele. No! Ma in realtà puoi salire. E non ho visto. Saltando in diagonale. Là sopra. Raga, come ci arrivo? No. Ehi, tu sei una pippa. Torna a bere il bicchiere. Vai! No, vorrei capire. Saltando in diagonale da qui. Eh, ma poi lei non si arrampica. Cioè, ragazzi, lei non si arrampica. Sinistra. Destra. Sinistra, destra. Avanti. Dietro. Guerra da Bulacadia. Non è guerra se io ho già vinto. No, ragazzi, ma non ci arriveremo nemmeno per me e per mai. E infatti, chi ha ragione e chi ha torto, io come sempre. Io, come sempre. Ma vinto dove? Sali andando a zigzag. Non ci bubaia, questa la pre-blenderà la turnico. Tutto lo spigolo nei denti. Vinto dove? Io vinco solo. Spregare un medikit per cercare di raggiungere un medikit. Vabbè, ma alla fine ogni medikit verrà presto riportato nelle mie tasche. Vabbè, andiamo di qua. A questo punto il gioco vuole che andiamo di qui e qui andremo. Allora, Lara. Angolo. Angolo. Bravissima. Prendi la mira. Fai un salto. Fanni un altro. Fai una giravolta. Falla un'altra volta. Un, due, tre. Un, due, tre. Eh, mo' bello. Vabbè, meno male. Grazie al cielo. Grazie, signore. Grazie. Secondo voi da qui ci arrivo? Ma dai, mi manca il pirulo proprio nel momento giù. Nel momento del prepuzio. Vabbè, ragazzi, io ci provo. Ah! Ce l'ho fatta! In che? Il pirulo. Ho detto pirulo. Ciao, sesto! Quanto sesso con sesto. È per volevo fare rima. Cosa? È perché? È che lui mi ha chiesto uno sponsor. Dai. Ciao, Marina! Mi scusi, ma sembra che nel punto di prima si poteva salire con un sistema di salti indietro. Ah! 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 Ok. Ok, Marina. Sì, forse sì, ragazzi. Cazzo, ma... Aspetta, facciamo una cosa. Aspetta, facciamo una cosa. Salvo. Torna in quel buco dove stavi prima. Torna nel buco da dove sei venuto. Facciamo una cosa, aspetta. Ok. Perché sì, forse... Forse lì c'è un segreto. Cosa ci state nascondendo? No, è che se... Allora, sesto sta attivando, sta avviando la sua impresa di... Come si chiama? Di gigolo. E quindi voleva... Mi ha chiesto un consulto per uno spot che potesse funzionare per avviare la sua attività. E io gli ho detto, quanto impresa di lumache? È la stessa cosa. Quanto sesso con sesto? Uzzu, su, aiuto. Ma dove devo iniziare? Da qua? Io mi fido di voi. Bene così. Sesso presto. No, sesso presto vuoi fare una cosa piccola. Torna nel buco da dove sei venuto e me lo diceva sempre mia nonna. Eh, quello è un guaio. Qua? No, nemmeno. Ho capito però. Cosa sto vedendo? Aspetta, ho capito. No. Lara, Lara. Eh, eh. Eh, eh. Ho capito. Ho capito. Ho capito. È per forza dal triangolo a sinistra. qui, da qui. Eh, ma non... Aspetta. Fermo. Non funziona. Com'è questa versione rimasterizzata? Sai che non è male? È molto carina. È molto, molto, molto carina. Colpo di testa. Del Piero! Federico Totti! Devi saltare un pochetto più avanti. Eh, ma come ci arrivo lì avanti, ragazzi? Aspetta, forse devo mettermi da qui. Eh, Lara, mi sembri le mie palle. Eh, eh. Benissimo. Eh, eh. Eh. Eh, eh. No, sono troppo scesa. Devo fare subito. Ho capito, ho capito, ho capito qual è il dramma. Ho capito. Eh. Ho capito. Vi ho detto che ho capito. Eh dai, non l'ha preso, non l'ha preso, signora. Si mette al var... Si mette al varco. Da quando hai le palle? Sempre avute. Sono una donna... Ah! Pallona. Ma addio mio. Allora, sentite, io partirei di qui perché mi sembra il posto migliore per fare un salto di questo calibro. Ma perché non pinza? Se mettiamoci... Se mettiamoci... Proviamo a metterci a metà. Non lì, ma nemmeno qui. Quindi faccio... Lara, ti giuro, ti succhio. Pinza romana. Non si attacca! Se mettiamoci... Se di mentiamoci. Se mi mettessi un po' più qui. Oh, sì. Lara. La rabbia che ti sale ogni volta che fai salti. Oh, mia Lara. La rabbia che ti assale ogni volta fa più male. Oh, mia Lara. Quindi se ti salti e ti aggrappi... E mi stai saltando! Sto saltando e aggrappandomi. Veramente non va. Secondo me devi fare primo trampolino, muro, secondo trampolino. Eh? Ragazzi, ma non si azzecca proprio. Non si azzeppa proprio. Leggi pure prima però. Aspetta. Quando salti all'indietro, scivola un pochino prima di saltare. Ok. Fortnite? Ma sì, diamoci a Fortnite, ragazzi. Ma che ce n'ha fatto? Ce l'ho tutto duro. Il salto. Ciao, capitano! Devi riuscire ad arrivare più in là perché sbatti contro il muro. Eh, lo so. Mannaggia la pupazza. Oh, mia Lara. Lei mi ammazza. A fesse, mamma da... Quanto duro. Acchiappi proprio il muro. E ho capito che acchiappi il muro. Ma il muro sta lì. Che ci devo fare se sta lì? E quello è lì. E se sei messo lì, vive lì. Non è colpa mia. La fessa di tua mamma. Ho sbagliato a fare il salto. Ragazzi, avete da fare? No. Ve lo dico io. No. La risposta è no. Sì. No. La risposta è no. Quindi. Ma veramente sì. Non è vero. Non è vero o non avete da fare. No. Lì mi credo che non funzioni così. Effettivamente io arrivo troppo... Troppo dopo. Cioè, quello è un sistema intricato di carrucole e specchi. Troppo di prima. Troppo in là. Quindi di qua. Qui va bene. Cioè, secondo me qui va bene come posto. Però devo capire in quanta distanza farlo. Marona Lara, per nome vari palla. Ok. Bravissima. Bravissima. Torna indietro. Torna indietro. Pidapateke. Apateke. Apateke. Etteke. Etteke. Vai dove scivoli e poi fai capriolare all'indietro. Nel senso che lo faccio di così. No, l'arma burcà. Mannaggia. Bubà! Va bene, va bene. Ho tutto sotto controllo. E il mio amore non lo devo fare al contrario. E allora, Margherita. Sì! Per carità, applausi. No, io veramente voglio gli applausi. Ma tutto questo per un medikit e... E delle munizioni. Ma serio? È quello che ci meritiamo. Questo ci meritiamo. Questo ci meritiamo. Questo ci meritiamo. Questo. Questo ci meritiamo. Le avevo detto di salvare. Si salva mai. Non si salva. Il finale assorpito. Il finale che ci aspettavamo tutti. Eh no, è meritato. È meritato. Devo dire che è meritato. Lara? Ok, va bene. Forse era scriptato. Lo rifacciamo? Piuttosto mi... Veramente mi strappo... I peli delle sopracciglia con le dita. A mano. Uno per uno. Che ho tirato? Cosa avrò tirato? Chi lo sa? Ah, ho tolto l'acqua. Va bene. Bello. Simpatico. Ah! Arrivederci, amore mio! Anche questo... Ma che c'è stato? Veramente... Ma che era? Il monastero di San Francesco sul serio? Bravissimo San Francesco, amico degli animali. Però io... Basta gli animali... Basta! Non serve! Non è abbastanza? Ma io non lo so. Mio marito lo fa. Cosa? L'alligatore? Io credo che devi rifarlo per forza. No, era solo un segreto. Il problema è... Ho tolto tutta l'acqua. Molto bello. Intrigante. Ma dove devo andare? Voleva due coccole. Ma non mi pareva a me. Francesco sapeva il coccodrillo come faceva? Sì. Ma in realtà lo so pure io come fa il coccodrillo. In realtà si saliva più sopra. Oh! Oh! Senta, coccodrillo... Ah, quel che ho trovato a dire è morto. Vabbè ragazzi! Era per rumore di estero. Bello che c'è stata la musica di... Ah! Puh! Minchia! No! I pipistrons! Ha! Dannati pipistrons! Che difficile la vita Quando sei stronzo come un pipi stronzo Basta E dai, e quanti ce ne stanno ancora? Basta Basta Rumore di disgrazia Ma la mia, la mia vita è una disgrazia Lo stesso rumore di quando si chiama le uova in testa per aprirle Una cosa che faccio sempre Proprio le uova normali però Non le uova di cioccolato Dai Basta Dov'è? Vabbò, basta Tiro prima la leva Che supplizio Ah, 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 succhia Ok Perfetto Perfetto Dove, ma dove stava Thor? Thor indietro Ebbene, ma ancora Ma da dove, ma da quale buco escono sti pistrelli? Ma io non ho capito Ma qualcuno vuole Ciao Cataplasma Questo è un livello molto simpatico Sì, dove stanno? Dov'è? E poi non viene Ragazzi, io non riesco Nannaggia I pipistrelli Ok Posso scendere E allora scenderò Benissimo Allora, io voglio andare a prendere Io ho un piano Quello di andare a prendere quella roba Lara Amami Lara Ah, una leva Lo sapevo Ed è per questo che sono venuta qui Ciao fambi Attenzione che ce la faccio Ce l'ho fatta Come potevo non farcela Torna indietro Torna annunziator Annunziata Bello Vedo che siamo tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda di stupidità Poi dicono a me che io sono scema Ma io non è che posso essere intelligente Ciao Ares Io ho un piano Avere un piano Ma Dove Qui? Sì, secondo me è qui Sbam Secondo me Io sto dimenticando Qualche leva Ok Sta diventando il bagaglino qui Secondo me tra poco lo tiriamo fuori noi il bagaglino E andiamo a farci un bel viaggio Tutti questi nomi sulle porte non sono rincoranti Vero Mannaggia Bubà Ancora Fermi Dov'è? Chi è? Dove stanno? Ehi Ehi là Pipist Ciao Casey Ah eccolo Ma vabbè Vedete se questo mi deve succhiare dal basso Ma io non lo so Vedo che sta giocando Aspetta fammi vedere Con i comandi tank si trova meglio con questi piuttosto che con quelli moderni No sì Voglio Voglio giocarlo con questi qui piuttosto che con quelli moderni Onestamente Con quelli moderni Ti dico la verità Non so nemmeno se mi troverei bene Probabilmente no Perché sono abituata a controllare Lara così Se non controllo Lara così Probabilmente la controllerei ancora peggio E quindi meglio così Fidatevi Oh Torra Ti è uscito dal piede Musica di misterio Mannaggia Capito però ogni E' un supplizio Cioè ma questa donna Non poteva Non può fare un passo Che muore Cioè veramente Non può fare un passo Che muore Già già fa Tu 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 Musica di misterio Sbris Siss Aaaaa Aaaaa Non ho capito come funziona Non ho capito come funziona Che giornata elettrizzante per Lara Ma pure troppo Aspè ragazzi Non ho capito come funziona il gioco Sull'acqua Ma non ho l'acqua Non c'è acqua Vabbè Ricarichiamo Ciao Dav Buon pomeriggio Devo capire Aaaaa Non ho capito Maronna Boncatissima 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 Ok Stavo Ah 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 Che sisora Ah No dai Prima come ho fatto Come ho fatto prima Boncatissima Riumare Allora Ah 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 Ho capito Ho capito Ho capito il gioco Ho capito il gioco Fè sei andata sulla piastrella Sì però sei andata sulla piastrella Che non era Elettrizzata Vedete A un certo punto Loro Perdono elettricità Non è vero Non funziona così Non funziona così A un certo punto Perdo Elettricità No vedi Non è così Ah ho capito No c'è tipo un timer Cambia piastrella No No non è così E qual è il timer Cioè scusami Come capisco qual è il timer Ah no C'è proprio un timer in generale Cioè scusami Elettricità No c'è proprio un timer No, non ho capito. Fai il primo giro. Ciao, Vidella! Non ho capito il ritmo. Non ho capito il ritmo. Entro e muori. E quando mai? Non va mica bene. No, no, va benissimo. No, ragazzi, non... A fessi sorda, Lara! Non ho capito il gioco. Sembra che gira in senso antiorario. Gira in senso antiorario. Ma è random, ragazzi. No, va random. E non è nemmeno quando è spento. Perché non è una questione di quando è spento e quando è acceso. Perché quando è spento, se io cammino... È random, è random. Ah! Fanculo! Va bene lo stesso! Sì? Ma serio? Vabbè, salvo nel dubbio. Salvo nel dubbio, eh? Salvo. Non dite che poi l'hanno salvato. Attenzione, mediorite. Ah! Eh, mannaggia, che lei non sa... Lei comunque salta storta. Ciao, Videlza! Buon pomeriggio! Bentornos per 22 mesi nel fantastico mondo... Della parmigiana di melanzane. Eh, guante, guante, guante. Anche meno. Anche meno, signora mia. Ciao di nuovo, ciao, Videlza. Ti lecco tutta la faccia. Ti sei salvata per un pelo di scimmia. Io non mi sono salvata, io ho voluto salvarmi. Ok, ragazzi, abbiamo sbloccato questa bellissima piattaforma. Molto simpatica, devo dire. Ah, devo andare lì. Va bene. Andiamo. Sì, ma non morire. Eh, ragazzi, quando si saliva... Quando ci hai... Ci hai. Quando ci hai la salivazione. È appena appena buio. Non vi preoccupate. No. Non vi preoccupate. Ci penso io. Ve lo dico io. Non vi preoccupate. Solo io vedo il gioco scurissimo. Eh, ragazzi, la versione Remastered è scurissima. È veramente scurissima. Non so per quale motivo. Però mo' ce ne usciamo da questa oscurità. Non vi preoccupate. Andiamo via di qua. Ma è buio pure così. Guarda lì. Guarda la differenza. Ragazzi, guardate la differenza. Luce accesa, luce spenta. Luce accesa, luce spenta. Luce accesa, luce spenta. Mo' devo capire dove andare. Ciao, Wolfio! Fatemi capire dove andare con la luce accesa, magari. Perché così almeno non faccio del caoticismo. Giorno e notte, giorno e notte, mangi e non ingrassi, dormi e dimagrisci. Sì, in realtà la sigla l'ho fatta proprio io. No, e dai, Lara, ma tira avanti. Non hai ancora visto nulla sulla luce accesa e spenta. Pensa. Dio mio, che cosa mi aspetta allora? Ora la canterò con la voce di Tarlo per tutta la sera. L'ha fatta pure Tarlo. Bellissima. Guardate che è assurdo, è impressionante il livello di jingle cazzate che noi abbiamo nella mente, assimilato negli anni, e abbiamo nella mente ormai per sempre. Cioè, è veramente micidiale. Io adesso capisco per quale motivo nella mia vita non ho mai imparato un cazzo. Perché la mia testa era troppo piena di questi gingolini. Cioè, tra giorno e notte. Ditemi una pubblicità con un jingle. Ditemene una. 12.40 Suona, fischi e canta. Sì, tipo, quante cose al mondo puoi fare? Costruire? Inventare? Ma trova un minuto per te. Pennello cinghiale non ha un jingle. Pennello cinghiale non ha un jingle. Ma se ti sei pure laureata. Sì, ma solo la triennale. Ho avuto il tempo solo per fare quello. Poi il resto è la memoria. Tutta quanta eliminata per sempre. 8, 9, 2! Scusate questa chiave. A che chiave mi serve? Alla fattoria nasce la bontà e robiò la osella. Che felicità la festa di tua mamma. Quello della pubblicità 12.88. Sai che non la so? Ciao, Kopev. Aspetta, mi deve venire in mente. La canzone della Gioconda? Qual era? Gran sole! Tutte, ragazzi, le so, quasi tutte. Ah, era bonci, bonci, bon, bon, bon. È vero. Anche quella lei di 89, 24, 24. Vedete che ce le ho tutte tu? Cioè, ce le ho tutte qua. È impossibile. Come facevo a vivere una vita normale? Ah, è vero. Non c'è un cane senza un cagotto Non c'è 12 senza 88 No, però virgola era già una suoneria quindi ci sta che dici vabbè, ok Non diceva proprio così vabbè La chiave, l'ho presa Avevo salvato prima? Avevo salvato prima di saltare? Pensavo di aver salvato il ritorno non all'andata Dio sa Cioè, le so tutte, 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 tutte quante Ah, ok Avevo salvato prima È vero Avevo saltato prima Virgola no Ora la canto tutto il giorno C'è un TikTok in cui io le canto tutte le canzoni dei cellulari Non ti lascio sola Bella Bella topolona Madonna quanto sei buona Canto a squarciagola Per la mia topolona Mamma mia rispondi ora Tutte le so Tutte, tutte Tutte Cioè, io non ho mai potuto fare una vita normale per questo Mai potuto fare una vita normale La fruittella Le so, ragazzi È inutile che mi fate Mi mettete alla prova La fruittella Questa è la magia più bella Magica bontà di frutta Le so tutte Le mu che fanno mu Ma una fa mu mu I polaretti Uff, vabbè Siam Lelli Kelly Le tue scarpine Oh yeah Tu puoi saltar con noi Siamo sicure Sai E poi ti spacchi L'osso del collo Vabbè Le fruigioi però Sono piccoline Che alle morbide Fruigioi Tu resistere non puoi Devi, 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 devi Masticar Sai che è quella di prezzemolo Il gelato San Montano No, il polipop Aspetta Ma il polipop Che cos'è? Io mi ricordo Quella del push pop Che era una donna Che mi ha fatto ricordare Il push pop Adesso voglio il push pop Certo che le so tutte ragazzi Ma secondo me Mia mamma mi ha cresciuto Davanti a una televisione Era molto occupata Era molto occupata Ciao Cristina Aribu E la bontà Che si gusta ad ogni età Quella specie di lecca lecca No, non so che cosa siano le polipop Io però mi ricordo il push pop Che era quello stick Tipo di Ragazzi, io devo capire qui come si salta Saccata Non così Devo salvare Devo salvare lì Devo salvare lì No Questa non la so Mannaggia che io sbaglio sempre Questa non la so Che buono che era il push pop Dio mio Io È stato il mio sogno Erotico Per tutta la mia infanzitudine Perché mia madre mi dava Il giusto Cinque centesimi Per potermi comprare la merendina Per la scuola E quindi non avevo mai soldi Per comprarmi le caramelle E io vedevo sempre il push pop E lo volevo tantissimo Penso di averlo mangiato tre volte In vita mia Ed era buonissimo Era veramente quel sogno Di gloria La sigla dell'ora esatta Però quella non è una sigla Cioè io sto parlando proprio degli spot Degli gingolini pubblicitari Cioè quelli che In realtà noi non voleva Perché nessuno è interessato Alla pubblicità Cioè i gelati del dorato Non la so Che trip che era quella del miel pops Miel pops E tu Franca Che ci fa arrivare Al ballo di madre natura E allora A fine live Madre natura Prende il volo Ballo La musica Dei Miel pops Tiè Mettiamo questo Fermi Fermi Preparate i binocoli Dopo Mettete via i fidanzati Potreste farli Veramente Soffrire Ma inseriamo I propri miei occhi Franca Grazie mille Per le due sub A King E Sganashun Che tornano Entrano nel fantastico mondo Dei culi A mandolino Ora chiudo il mio in bagno Sì sì Chiudeteli in bagno Che è un casino Ricordateglielo Che sicuro si dimentica No Ragazzi Ma dove spaccimma Devo andare Io non ho capito Questo gioco Porca troia Sì secondo me Comunque devo stare Non è che devo Muovermi E star ferma Sì Capito però Non è che si può far così La vita Non è che devo Muovermi E star ferma Cioè Pidi 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 Ciao Klein No Muovermi E star ferma No nel senso Che dovevo Dai Dovevo star Mossa Ma vaffanculo Devi stare zitta Quando mi parla No devo Devo fermarmi Quando è attivo E muovermi Quando si spegne Come quando Come il mosso liscio Chiesto al parrucchiere Oh guardate Che io le ho chiesto Il mosso liscio Tipidi Ragazzi 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 ma forse ho capito Ma forse ho capito È una vita Che lo sto dicendo No non è vero Forse non ho capito Un cazzo No forse non ho capito Un cazzo Che stiamo No è che appena Mi vede proprio No è che Corri e basta Si setta Ma ci sto provando Solo che su cosa Mi piglia sempre Metti la luce Metto la luce Ma non cambia niente No è che Il punto È che avevo pensato Che Vedete che in alto Scusami La luce è accesa All'improvviso Vedete che in alto C'è questa Questa roba Con le piastrelle Ho detto Magari se salto Su queste piastrelle Non prendo del dolore Io ci sono riuscita così Maria Fatto Va bene Va bene Va bene lo stesso Afangula Assord Tre ore Sto burdella Bene Mi fa molto piacere Chi è? No dai Armando Mi hai rotto i coglioni Senti Senti Vatti a fare una vagonata Di cazzi tuoi Armando Do cazzo sta Quest'altro rincoglionitomo Armando Salvo 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 Del grande fratello Sentite Salto di qua Ma cosa mi spari Coglione Ti giuro Fatti trovare Fatti trovare Pezzo di merda Ti giuro Vieni 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 qua Vieni qua mamma Vieni Non farmi spregare I coraglietti Li buoni Quelli che ho appena Tirato al lucido Sì Sì Spa Vieni Vieni È sotto Cazzo ci fa Questo qua Sto rincoglionito Io lo so Siamo già a 37 salvataggi In 15 minuti di gioco La cosa bella È che io ho detto Vabbè ma i Tomb Raider Non durano un cazzo E un gameplay completo Del primo Tomb Raider Versione remastered Fatto da un professionista Del settore Dura 5 ore Vi dico che noi abbiamo fatto 3 live Di Tomb Raider Questa è la quarta Abbiamo fatto fino ad adesso E in 3 live Abbiamo fatto l'equivalente Di 40 minuti Di quel gameplay Ma è perché Noi ce la facciamo Ce la prendiamo comoda Non si è capito Non si era capito Io me la voglio prendere comoda Voglio assaporare I momenti con Lara Perché credo che siano Più gustosi Lo sentite il gusto Eh Io lo sento il gusto Di Lara Che gusto Lara Ti hai mettere staglia No Qui No No Qui No No È l'ultima Torna su che devi andare Nella porta di Damocle Lo so Lo so Lo so Datemi il tempio È sempre l'ultima No è che avevo visto Un Medicist Soltanto che non vedo più Dove sia Che non molto English E beh D'altronde è English Lei Vanno gustate lentamente Non di corsa Ma appunto Cioè Lara è un È un gioco Che comunque si prende I suoi tempi Poi fra l'altro Io lo sto giocando Letteralmente Come se stessi First run Quindi amici Lo stiamo veramente Assaporando Con enorme Con mucio gusto Ci arrivo lì? Lara La fessa Tua La tua proprio Non posso citare La fessa di qualcun altro Perché solo la tua Posso citare Perché Da Allora Non cadere Come una Pulla Mettiti dritta Oh E sali Come solo tu Eccolo il Medicist Lo sapevo Che l'avevo visto No dai Basta Ma non è un Medicist Sono munizioni Che palle Che v... Eeeh Vabbè le inquadrature Porche Ehm Vabbè Andiamo di qua Mia sorella È molto bella Hey Ok Perfetto Bravissima Salta Come solo tu sei saltante Allora Dobbiamo andare Nella Parte alta Suppongo Ma non ancora Sti Sti Stronzi Basta Mi avete rotto Le bolas Che salti pieni Di gravità Fra l'altro Non jigglano Devo Devo fare un disappunto Disappunto Non c'è il jiggling Poco Poco riferimento scientifico C'è poca scientificità Non è Hai Damocles Aperto Vero Abbiamo il Damocles Andiamo da Damocles Andiamo dove è giusto andare Ehi vabbè Ma qua è cauto di tutto Salvo Perché Mi piace salvare Toh La reddonina seria Non jiggla Eh ho notato Ah questa è così Proprio Basta Quest'era Tutto sto burdello Io ho fatto Prima Ma pensa Ma tu guarda I casi della vita Come faccio a capire La mamma Ricordati chi era Damocle Ho capito Ma non è che Mi aspettavo le spade Mortacci loro Non ho più niente Ragazzi Non ho nemmeno più gli occhi Per piangere Veramente ho perso Qualsiasi cosa Nella mia vita Mai viste così tante spade Di Damocle Tutte in vita mia E Che cazzo ho detto Tutte insieme Tutte in vita mia Ciao Frenny Buon pomerischio Ciao rabbit Sono diventata una focaccia Che dolore Che dolore Abbiamo già Ebbis cool Per il jiggling Eppure C'hai ragione A I O A A A A A A Gusto Come faccio a capire Dove stanno Scusate Mi sono in testa Non si vedono No si si vedono Perché saranno di là Bravo Kaiser Vedi che Kaiser Persona di cultura Giustamente mi dice Guarda in alto A parte che qui non c'è Un alto La tua mamma La tua La tua mamma La tua mamma Ok Ok Spada 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 Va bene E la spada Nella roccia Eh ma Non è che riesca A guardare così Tanto in alto La spada Nella roccia La spada Nel mio bagno Ciao Giallu Ti do un consiglio Cammina C'hai ragione Sto camminando Wow Che bello Camminare Perché camminare È la Cosa Delle persone Sagge Ecco Vedi 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 Le persone Sagge Camminano Ciao Giallu Se cammini Vedi quando Arrivano Hai tempo Per fermarti E non farti colpire Sì Ho visto Ho visto Ho visto Siamo riusciti Comunque A fare Ciò che Più ci si Confa Devo salvare Adesso Lei sta sfilando Sì Lei cammina Guarda lì Come una modella Di vittoria Segreta Veramente Vittoria segreta Salva Fatto Ho finito Tomb Raider 1 La settimana scorsa È peggio di un Souls game Puoi dirlo Ben Affleck Mamma santa Veramente Se è così C'è È veramente Terrificante Io non ho Allora Io Sarò contro Controcorrente Faccio la tizia ribellina A me i Souls Rilassano Per me i Souls Io penso che i Souls Siano tra i miei giochi Più rilassanti in assoluto E ho veramente Dovuto smadonnare Con Malenia In Elden Ring Perché l'ho giocata Con il bug Che mi si frizzava Lo schermo Quindi c'è Immaginate quanto possa Essere arrabbiata Con i Souls Per me i Souls Sono letteralmente La cosa più tranquilla Sulla faccia della terra Poi gioco questa roba E dico Io voglio Strapparmi gli organi Vitali Allora Saliamo Perfetto Questo mette Ma più che altro Perché Proprio senti Il malessere Cioè senti Che stai sbagliando Tutto E ti E cominci a pensare Ma forse Il problema Sono io E magari il problema Non sei tu Capito Perché io non sono Il problema Io So quello che faccio Sì Tomb Raider 1 Era tostissimo Infatti poi mi ricordo Il 2 e il 3 Non erano così Erano molto più Easy Malenia con lag Guardate che Malenia con lag Come l'ho fatta io Era terrificante Ragazzi Io non vi auguro mai Di giocarvi una malenia Come l'ho giocata io Perché faceva veramente Mamma sa Ragazzi E come le apro queste altre Io vi avevo detto Che abbiamo Stoltotti Totti L'ho detto Che avevamo preso Delle leve Non leve Il 2 è un po' di meno Ci sono leve Lungo la colonna centrale Quindi è qui Questa l'ho tirata Sì Questa l'ho tirata Quindi non è questa Cioè l'unica che ho tirato È questa Praticamente Basta Poi non ho tirato più un cazzo Mica cosa che ho tirato È lo sciacquone Mia mamma È una bella donna Allora Controlliamo Intorno Per la presenza Di leve Levatemi Le mani di dosso La nostra dottore È la soluzione Non il problema Beh oddio Molte persone direbbero Il contrario Ah era lì Guarda L'abbiamo trovata Molte persone direbbero Il contrario Però ti ringrazio Ti somiglia pure Chi? Lara Spero di no Spero Malenia Cioè spero più che altro Malenia Perché sono tutta Corrotta Dal Dal morbo Sì sono leggermente Un palo in culo Abbastanza Devo dire la verità Devo essere brutalmente onesta Ma Malenia è senza un braccio Eh vabbè Me ne farò una ragione Me lo sta Faccio Ara Araghiri Che però Non c'entra un cazzo Con quello Però vabbè Faccio Araghiri Del braccio Ok ragazzi Che porta abbiamo aperto Voi che siete stati A guardare il gioco E non A pensare a Malenia Come me Che io mi sono distratta Un attimo E mi sono dimenticata Tutto Quindi Ciao storto Ma Ci manca un'altra leva È questa Vero? Yes Neptune Vabbè Tanto dobbiamo salire Per forza Abbiamo fatto Damocle Quindi Damocle Damose Sì sì No Neptune L'abbiamo fatta Cioè L'abbiamo aperta Abbiamo aperto tutto Credo adesso Salvo di nuovo Che Mi sono rotta le balle T'ho salutato due ore fa E non mi hai cagato Ma stai zitto Stai Che ti prendo a schiaffi In faccia Fin quando poi Non ti metti a piangere Dal dolore Minchia No Vedi è così Che mi rende Tomb Raider Così che mi rende Tomb Raider Non sono io È Lara Che te l'ha detto Il karma Ma quanta violenza Ragazzi La rabbia repressa È terribile Secondo me Dobbiamo andare di qua Chi è che mi vibra Questa è Sbellotta Ah è vero Allora io La cosa bella È che Bellotta sta volando Per San Francisco Perché sta andando Alla G Di Sì Che è la cosa La festa Degli sviluppatori Di videogiochi E lui non vedeva l'ora Ma gli aspettano 77 ore di viaggi Di voli Di cazzi E di mazzi Perché deve arrivare Fino a San Francisco Da Ginevra E la cosa bella È che io non mi ricordavo Nemmeno che dovesse partire Quindi non me lo so Cioè lui ha fatto Ieri mi ha fatto Tutto questo preambolo Incredibile Dicendo Mi dispiace Che poi non ti posso Sentire tantissimo Perché avremo orari diversi Così E io non capivo un cazzo Perché non mi ricordavo Minimamente Del fatto che dovesse partire Ha detto Ah Sì Il mio Ma fessi Sordata Però non è possibile Questa si muove Senza giudizio Si muove veramente Senza giudizio Cioè era lui che mi diceva No guarda Mi dispiace Così E io Ah Perché Mi ero totalmente Dimenticata Totalmente Proprio Obliterata Questa Immagine Questo te l'ha detto A te In realtà In Thailandia No 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 Devi andare alla GDC Di San Francisco Che lui non vedeva l'ora Fra l'altro Perché la sua cosa Più bella in assoluto Perché può conoscere Gli sviluppatori Dei videogiochi Li può provare Li può tormentare Gli può fare le domande Come fai molti incubi Ma quelli li faccio pure io Eh Fiorella Senza rabbia repressa Anche senza rabbia repressa Guardando il telefono Ma chi sei di Grazi E tu chi sei E tu chi cazzo sei Purtroppo Non è per niente Bellotta Cioè io ti voglio bene Te lo giuro E che c'ho avuto Una settimana Così complicata E che c'ho avuto Anche Ubisoft Sai che non lo so Non lo so So sicuramente Che ci sta Nintendo Che farà un panel Su Zelda Il nuovo Zelda E lui se lo va a vedere Ci saranno Quelli di Oddio Non mi vengono I nomi dei giochi Figuriamoci Non mi ricordo Manco come mi chiamo io Figurate se mi ricordo I nomi dei giochi Guarda là I delfini L'Emsusanne Le montagne Gandalf Ma di già Chi i delfini E' troppo presto Ciao aliens Dove sto andando io Oh maronna mi Dove sono finita Sono finita in un buco Ok Ok Tira la leva Benissimo Non ho ben chiaro Cosa sta succedendo Nella mia vita Ah Chiave Chiave Lara Dio santo Questa donna Questa donna E le sue No Eh ce la farò uscire Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Ciao Yuri Che ansia che mi fanno venire i livelli sott'acqua Ce la facciamo Guarda lì Guarda Guarda Tutto Studiatissimo Easy No Storto Non si fa Ma che rip Lara Raga Con me Lara Non muore Mai Con me Lara Non ha necessità Di morire E quindi Questo Questo posto Qui dietro A che cazzo Serviva Mi potevate mettere un medikit O quanto meno Mortacci vostra Manco il medikit Cioè Manco per bellezza Che cos'era Un angolo da te Dell'impero francescano Ultime parole famose Io non ho famosi Nelle mie isole Allora Dobbiamo andare Da Nettuno Nettuno Ti giuro Nettuno Nemmeno il destino Ci può separare Devo capire Dov'era Nettuno Nettuno era quello? Ah Nettuno era quello Giustamente Nettuno Abbiamo fatto il livello sott'acqua Sembro il cazzo Dovevo aspettare Grazie Grazie Padre Pio Veramente grazie Padre Pio Atlante Qui l'abbiamo fatto Lara Ma allora lo fai apposta Tesoro mio Cioè Ma lei scivola da sola Scivola veramente da sola La ragazza Cioè Veramente Non è più colpa mia Adesso Adesso è colpa della ragazza Della donna che cammina E fa cose Di sua spontanea volontà Cioè Con me Lara non muore È perché non stai giocando Se avessi Ma ci sono i leoni Ma quando sono arrivati i leoni? Non era quella che non aveva necessità di morire È che ogni tanto lo devo fare Devo dimostrare a voi Che sono una comune mortale Altrimenti Sarebbe troppo easy Grazie al cielo che ci sono i salvataggi Veramente Vabbè Comunque sono morta Meno Con Un Resident Evil Che con Che con Tomb Raider Vi giuro Cioè io non ho mai provato così tanta sofferenza Sono morta meno in Elder Ring Credo Quella mattonella così fuori posto Non mi piace moltissimo Ho come l'impressione che sia una Trappolissima Non era una trappola Ok È l'importante Saperlo Allora ragazzi Madonna mia però Se Se riuscissi soltanto a vedere Mannaggia Veramente difficile vedere Telecamera di me Ok Salviamo qui Basta Sono come piaghe Malenia che te l'hai inviato Mannaggia tutto Mannaggia Allora Bebe bibi Bebe Ehi tu lì Arambe No Povero Arambe No Adesso sono triste Adesso sono triste Adesso sono triste Ehi Oh no Oh no Oh no Allora Prendiamo questo che ci potrebbe essere utile Povero King Kong Ma io non lo so Guarda lì Spento e acceso Eh Bello 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 E' impossibile E adesso mi Benissimo Sembro pure io il cazzo Posso comunque confermarlo Meno male Che avevo Salvato Però prima di Dello scimmione Perfetto Fuori uno Sentite Io faccio così Perché non voglio mai più vedere questa scena Mi fa troppo male Non posso più vedere uno scimpanse che muore Anche se magari non è uno scimpanse Che cos'è quello? Non è un orango perché gli oranghi sono arancioni Quindi che cos'è? È un gorilla È un gorilla Sì Quelli che hanno cresciuto Tarzan Bravi Non mi veniva il gorilla Perfetto Come è giusto Che sia Ciao Sbibabbo Buon pomeriggio Allora Saliamo E non mangio E non mangio l'anguilla Ti prego posso salire a piedi? Ma come facevo a capire? Non mi inquadra nemmeno la telecamera Il punto è che la telecamera non mi aiuta Allora Eccola Eccola Benissimo Li abbiamo tutti adesso Giusto? Quindi posso inserirle All'interno del dispositivo Ciao Garizna Bentornos Per otto mesi Nel fantastico mondo Del gorilla che non mangia l'anguilla Ma mangia solo banane Le banane Che verranno Depositate sul tuo conto In banca Grazie Alla tua Sub Dov'è? Come scendo? Mamma Sto dicendo così tante fesserie Un consiglio Salva E c'hai ragione E c'hai ragione Anche tu? Sentite Io vorrei fare una cosa Oltre a salvare Vorrei Eh vorrei Acchiappare i leoni Perché ci stanno Le lioness Selvaggio leoness Con il bollino Rigolosamente attaccato Alla fronte Madonna che bello E' l'unica cosa Che mi piace Delle banane Perché voi Ma lei che inciampa Sul nulla Veramente inciampa Sul nulla Sul nulla Vi dico Cioè Se cadeva anche adesso Spegnevo il gioco Per sempre Ok forse di là Devo andare Ok 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 Va bene Proviamo a vedere Se riusciamo a prendere I leoni Sì Certo Come no Di qua No Santa Giuditta Giuditta Protettrice Dei leonessi Ah Eh vabbè Lara Però anche tu Ti ci metti Mannaggia No ho sbagliato Ho sbagliato Esci Esci Come faccio a uscire Perché non mi fa uscire Non voglio caricare la partita Sono morta Ma sono morta Come sono morta Non sono morta Ciao Clive Ma come sono Ragazzi ma è impossibile Che sia morta Io non ho visto Animazioni di morte Come sono morta Scusatemi Ci ho detto Non è interceduto Per noi Niente Ragazzi Servono gli Avengers Ho bisogno Dell'aiuto Di tutti gli Avengers Uniti insieme Vai che ce li prendo È ok Fuori uno Uno è andato Eccolo qui il secondo Beh dove corri Quanta fretta Ma dove corri Dove vai Ti vedo Sì sì Vieni Torna nella savana Del paradiso D'altronde Hanno mangiato I leoni Ecco come è morta E vabbè ma non Guarda Guarda Adesso non rivedrà più Simba Madonna quanto fatti male Salva salva Salvo Metti mai Che possa morire di nuovo Impossibile Però Metti mai Che io possa morire di nuovo Damocle Damocle era Che culo Voilà Benissimo Io dico che questa è Atlante Sono troppo brava Non era molto chiaro Che animali fossero Ma infatti Non sembravano Tanto dei leoni Però vabbè Noi ci fidiamo Sono troppo brava Troppo brava A sapere Le cose Tiè Apriamo sta porta No La porta in faccia Mo' diventava veramente Un Uno sketch Di fantozzi E livello Finito Amici Livello Finito Forse sono Lionese No Sono lionesse Però Sono lionesse Molto brutte Salva Ma perché urlate Salva 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 Ragazzi Niente ci potrà mai Ammazzare Cioè scusate Impossibile Perdere qui Salve Buongiorno Allora Una grotta Perché abbiamo paura Ormai siete traumatizzati Ragazzi Ho come l'impressione Che dovremmo La feste Scusate Mi si è Sgonfiato L'airbags Ecca là Ti affronto A cazzo duro Mio leone Della savanna E va bene E' andata Abbiamo bucato Sì è un attimo Quello è un secondo Finalmente la spa E ho capito Ma non spa bene Ciao cappellaio Buon pomeriggio Ok Mannaggia Bubà Mannaggia Aspetta Aspetta Ok Easy Come aver bevuto Un bicchier d'acqua Tutto bene Cappellaio Che ore sono In tutto questo Madonna mia Sono le 16.00 Ragazzi Comunque Tomb Raider Fa paura Cioè se io Non controllo L'ora Finisco Per rimanere qui Fino alle 8 Stasera Eh Ma gli leoni Non sanno salirle Le scale Ma non è vero Non è accuratamente Storico I leoni Che salgono Le scale Ma che è Live lunga No Potrei anche farla Volendo Però giuro Che devo Andare A finire Di fare Un lavoro E devo Assolutamente Farmi una doccia Ok Non posso Passare Ciao Simon Ma tu non c'eri Prima Scusa C'eri Prima Simon Ti vedo Credo di non Avere attivato Una leva Forse Chi lo sa Ciao Jack Però seriamente Se non Se non Avessi Se non Avessi Un timer O un qualcosa Da seguire Probabilmente Non mi renderei Minimamente conto Rimarremmo qui Fino alle 8 A giocare a Trombami Riders Si esce Oggi Raga Io ve lo dico Che è una cosa Molto importante Oggi Appena stacco La live Su Instagram E su TikTok Vi dico Vi spammo anche Un attimo I socialini Su Instagram E su TikTok Uscirà lo stesso video E' un E' un video Di Come si chiama Sponsored Di Supplied by Ah ma si sale qui sopra Mortacci loro Però che non si vede un cazzo E' un video di Supplied by Faccio vedere le robe Delgato insomma Questo è qui che mi ha inviato Delgato E' lo stesso video Su tutte e due le piattaforme Però se riuscite a lasciare Un like E un commentino Sarebbe molto apprezzato Fra l'altro io vi invito A guardarlo tutto quanto Perché ci ho messo Un po' di stupidità Nel farlo Vi dico A sto giro Non ho voluto fare Il pippone atomico Ma ho voluto fare una cosa Almeno una cosa Più simpatica E quindi Ci ho messo Una cosa simpatica Quindi se lo vedete Io sono molto contenta Grazie mille Sarà uguale Da tutte e due le parti Però se riuscite A commentare Con un po' di dolcezza Non mi trattate male Almeno Su tutti e due Vi leccherò Le sopracciglia Per sempre Ma devo entrare In questo buco? Che mal di testa Come il sistema Parasimpatico Nessun microfono È stato leccato Per realizzare Questi video Forse Allora Non so se posso raccontare Questa cosa Però io la racconto Lo faccio finta Di niente Fermami Fermami Dal tuo amore L'amore Del Coccodrillo Quanto amore Questo Coccodrillo Eh vabbè Ho capito Cosa vogliamo fare Dai Ok T'apposto Sto bene Allora Vi dico questa cosa Piccolo racconto Piccolo aneddoto Di meraviglia Non sapevo Quando io ho parlato In live Della roba Del gato Che mi hanno mandato Non sapevo Che questa roba L'avrebbe vista il gato Perché nessuno Me l'aveva detto Non lo sapevo Ciao Steriva Non Nessuno Me l'aveva detto Poi mi ha contattato Samuele E mi ha detto Katia mi mandi Il pezzo di live In cui hai parlato Del gato Voi vi ricordate Com'è stata la mia live In cui vi ho parlato Del gato Ragazzi È stata tutta un No Non lo lecco Questo Questo E Samuele Ha dovuto spiegare A quelli del gato Che io stavo scherzando Punto Non mi manderanno mai Più niente Quindi per favore Facciamo andare bene Questi video Vi prego Vi voglio molto Tutto bene Se riuscite Datemi una mano Fatemi fare Bella figura Più non mi manderanno Mai più niente Ho fatto la fine Di Nintendo No perché La cosa bella Che poi volete Sapere di più Si sono soffermati Sulla pa Però non hanno capito La battuta C'è stato un momento In cui ho detto Che per installare Il microfono Io non ci ho messo Letteralmente un cazzo Che è stato molto semplice E quindi ho fatto La cosa E ho detto Se siete stupidi Questo microfono È perfetto Ma perché Intendevo che È facile Da installare E invece Dio mio Ciao Sono terribile Io immagino Samuele Che ha dovuto Spiegare questa roba Che stava tutto sudato E ha dovuto Spiegare questa roba A quelli del gato Per dire No 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 Ma la ragazza scherza La ragazza Giuro che scherza Come hanno fatto A non capire Ma non lo so Come hanno fatto A non capire Perché era palese Che fosse ironico Nel senso di Guardate che è facile Da installare Però non 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 Io immagino Samuele Samuele aveva pianto Probabilmente Ma mi avrà anche Maledetto In tutte le lingue Del mondo Cioè io immagino Veramente lui Che a un certo punto Ha detto Io a questa donna Non lavoro più Basta Non faccio più Si sono offesi No Non si sono offesi È che non capivano Cioè pensavano Che fosse uno sfottò Ma in realtà Invece no Cioè ma poi Come io lo devo dire Il gato Ma io letteralmente Allora il mio setup È tutto il gato Tutto comprato Tutta la roba È il gato Mi pare che mi metto Ci fa offenderli Ma non lo so Ah ma poi fra l'altro Io ho scoperto solo adesso Che l'uomo di merda È lì E deve fare una brutta fine Ti giuro Ti sparo direttamente Nel Punicolo del pisello Vieni 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 Che mo ti sparo Nel chiulo Ti giuro Ti pertuggio l'anima Vieni Addo gaurri Quanta fretta Ma dove corri Dove vai Dove vai Dove vai Vengo qui con te Vengo Ti rincorro Per sempre È andato via Scappa il codardo Mo ha capito Chi è che vince Oh no Ma questo fra l'altro Dovrebbe rappresentare Il colosseo Vabbè Li ammazzo Per non farli uccidere Tra di loro Credo che sia Una fine Molto brutta Katia Katia con Delgato Be like No vi giuro Io penso che non Non Veramente non Non riceverò mai più Roba da nessuno Ma proprio nessuna azienda Per questo vi dico Dar Agenda Amico Datemi una mano Facciamo almeno Bella figura Con i due video Con il video Che poi è uguale Per tutte e due Le piattaforme Chiugai dopo che ha saputo Che quelli del gato L'hanno preso per scema Sì un po' Non si uccidono Tra di loro E invece sì E io sto per me Opposto fine Alle loro sofferenze C'è un medichist? No ma c'è un pertugio Madonna C'erano un sacco di pertuggi Però Ormai sono caduta Ah no no Posso risalire Va bene Vediamo un po' Facciamo quello che possiamo Dottora Lo so Però potete Per favore Aiuto Sono terribile Ma io non lo sapevo Cioè ho detto Vabbè Ne parlo in live Però Sai Poi ci faccio il videino Non sapevo Che avrebbero guardato La live Sì ma quanti leoni Ci sono al Colosseo Eh vabbè Che dolore Della marmaglia Capito quanto Dio mio Morto? Ce l'abbiamo fatta? Siamo vivi? Ciao fegato Ciao bo Bentorn house Sei l'urk la scusi Immaginatevi Vi ho detto Mi fa troppo ridere Immaginare Samuele Che ha dovuto Sudato Spiegare No ma scherza È goliardia Signori È goliardia Eh Quella la ragazza È scema Che dobbiamo fare È fatta così Tanto invidia Che ascoltava ieri Mentre Collino parlavate Solo di cibo No vabbè Ma su quello Tanto Cioè io dovevo Far vedere il servizio Quindi lì La cosa Possiamo parlare Poi pure Dell'epilazione Laser Cioè non è un problema Però il punto è che È come se avessi fatto La live di invidia Dicendo Madonna ragazzi Invidia Gli leccherei Addirittura Il prepunto No E l'avessero vista Capito Cioè lì avrebbe Lì sarebbe stata più Ciao Clelia Lì sarebbe stata Un po' più imbarazzante Però Ciao Miki Stavo dicendo Il prepuscolo Che è Quello che viene Prima della sera Az Due leonesse Tre leonesse E vabbè Ma allora Mettiamoci tutto il circo Pa Pa Pere 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 Lara Oh mio Dio Moriremo tutti No dai Non moriamo Non moriamo Cioè Madonna Ho fatto una strage Veramente una strage Adesso Invidia che guarda la live, no, no, no saluta i PR di invidia che credo che fra l'altro in Elgato non ci sia nemmeno un referente italiano e quindi letteralmente Samuele ha dovuto spiegare perché credo che siano inglesi e quindi abbiano solo tradotto le mie parole e quindi vai a spiegare l'umorismo italiano perché il mio era umorismo italiano Camu che regala a prepuscolo non sapevo nemmeno che esistesse il prepuscolo Camu che regala a prepuscolo una sub l'ho trovato what does faccim mean? è appunto vai a spiegare il potere della faccim cioè come io lo vai a spiegare a delle persone straniere, è un casino omilli account ma l'hai fatto apposta? l'hai fatto apposta Camu? ce l'hai creato tu? no dai non sei arrivato a tanto hai letteralmente cercato di fare del sesso col micro è vero cioè ma capisci in testa a me è una buona pubblicità oh io me lo comprerei se vedessi una persona così attaccata a un microfono direi cazzo è buono cioè vuol dire che funziona e il gato come lo chiami tu lo smisce e lo smisce storto no 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 è storto che regala a il gato una sub per entrare nel fantastico mondo della bellezza di questo microfono che ha una performance ottimale per far sentire la mia voce al meglio delle sue possibilità e volete che vi parli anche del pedal con il pedal in realtà ci ho fatto un sacco di cose in questi giorni perché l'ho testato per varie cose però alla fine ho finito per farlo rimanere con la roba di Resolve il pedal ragazzi se dovete editare tantissimo il pedal bomba per editare perché ho messo i tastini di come si chiama di Resolve che praticamente con il tasto centrale del pedal io taglio gli spezzoni che mi servono è bellissimo che io non devo muovere le mani faccio tutto quanto devo solo selezionare faccio tutto quanto col piede bellissimo quindi parliamo bello il gato di tutte le cose belle 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 per editare ma davvero giuro sintetica per editare mi stavo utilizzando lo sto utilizzando veramente meglio perché all'inizio l'avevo messo per mutarmi e smutarmi da Discord e il tasto centrale per mutarmi il microfono però era un po' sciupato così cioè era un po' inutile perché su Discord non è che ci sto sempre quindi era un po' buttato tra virgolette ragazzi io non ho ben chiaro io ho aperto delle porte però non ho ben chiaro che cazzo ho aperto vi dico la verità quindi mi sono un attimo persa mi sono un attimo smarrita tipo macchina da cuci brah esatto no è perfetto è veramente perfetto io praticamente mi sono messa il taglierino di di Resolve di Da Vinci me lo sono messo con la combinazione sul pedale centrale e quindi ogni volta che devo tagliare che ne so una clip di mezzo di una clip lunga clicco su un punto premo pedale clicco sull'altro punto premo pedale io non so se conoscete Resolve Resolve per tagliare un pezzo devi fare 50.000 click è un casino inimmaginabile e così mi sono salvata tantissimo il culo perché io faccio le clip per TikTok quindi mi serve editare abbastanza spesso in maniera abbastanza serrata quindi devo tagliare un sacco di pezzettini io sto sempre lì a trimmare madonna mia sono diventata una trimmona ora manca solo la scrivania che si solleva con un click no questa qui che ho rubato ai bambini credo che sia abbastanza questa qui l'ho rubata dei bambini all'IKEA quindi suppongo che sia più che sufficiente fra l'altro io ho scoperto che questa qui che sto utilizzando è alzabile come dice Zero lavoro coi piedi rimaniamo coerenti va bene va bene lo stesso ragazzi ma sono tutte chiuse le porte mi ero detta che c'erano un sacco di strade pensavo alle scuole elementari no non lo so a chi lo devi andare dietro le rocce bravo gioco che mi ha detto effettivamente un pertugio che io non avevo visto ya po favore ah Lara Lara e vabbè niente è andata così 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 a posto andiamo non avevo perso una porta dietro e non avevo visto le rocce più che altro i suoni acuti mi trafiggono meglio le orecchie ma seriamente è così alto ragazzi allora io ho messo il gain a 30 perché Bellotta mi ha detto in realtà Elgato il gain ce l'ha così cioè di base il gain di Elgato è così però secondo me così non mi sentite mai più cioè così secondo me non mi sentite mai più io l'ho messo io l'ho messo così all'inizio che è standard e Bellotta ha detto Katia io non ti sento quindi ho dovuto rimettere a 30 spara in game no ma quello non c'entra con Elgato il fatto del gioco non c'entra con Elgato posso abbassarvelo da qui questo questo ve lo posso abbassare io da qui troppo basso no adesso non è basso ho messo rimesso 30 adesso ho rimesso 30 se non la sentiamo più è perché ci siamo abituati agli acudi ormai siamo sordi ma state calmi state che è soltanto per vedere se ti sovrasta perché sentirei ah ok allora provo a sperare mentre faccio le cose però adesso dovrebbe essere molto basso il volume di gioco quindi non ci dovrebbero essere più problemi cioè adesso dovrebbe andare bene purtroppo il volume del gioco io non lo sento come lo sentite voi in live per questo mi dovete dare sempre un feedback perché io lo sento diversamente perché l'ho sentito l'ho settato diversamente nelle mie cuffie eh ragazzi ma non c'è un cazzo tutto bello per carità c'è bello stuco lo seo però non c'è un cazzo ah la porta aperta ma quando si è aperta chissà chissà sei diversamente udibile sì sono diversamente udita perché il ho il mixerino che mi setta le robe che io sento sulle cuffie sì le robe che setto sulle le robe le robe che setto sulle cuffie sono diverse dalle robe che voi sentite in streaming ok ma scusatemi questi appresci tua mamma fa i bidet di ceramica belli c'è una porta aperta c'è una porta socchiusa ai confini del sole io l'ho udita un po' più acuto e ti sentivo pure bassissima eh allora il punto è che il gain del microfono è sparato molto basso tua mamma fa i bidet rotti ma questa cosa non si apre no non si apre ma va bene non ti chiudere Giovanna non ti chiudere Giovanna non ti chiudere mai chissà che cosa avrò aperto adesso sicuramente ho chiuso questa porta anzi no questa porta è sempre stata chiusa metta un compressore l'ho messo il compressore c'è il dovrebbe esserci il compressore in realtà in questo momento io ce l'ho settato per i podcast addirittura cioè io ho settato l'audio da podcast che io non ho capito per quale motivo perché Bellotta mi ha suggerito di mettere l'audio da podcast ma io non ho capito per quale motivo abbiamo messo l'audio da podcast dato che io non faccio un podcast però lui ha detto no no molto meglio much better much better I assure you va bu ok la cella nell'altra stanza potrebbe esserebbe vero bravi dare il compressore quando fai il just chatting che è no no invece non me l'ha aperta forse a tempo o come tua mamma fa il cesso senza la ceramica quindi vuol dire che è una brutta signora gonfi il canotto del compressore sì probabilmente devo devo sistemarmi un po' le cose però vi giuro allora il punto sapete che cos'è è che quando io sento il mio faccio i test del microfono e sento il mio audio e parlo con l'audio sì credo che di doverlo abbassare quando parlo con l'audio il problema ciao celtico il problema è che io ahhh ok no dai ma ho fatto velocissimo il problema è che io quando faccio i test parlo a bassa voce faccio prova prova sa sa prova prova sa sa ah ok si sente bene perché parlo basso però non non sparo mai un urlo atomico tipo così tua mamma lavora da pozzi ginori penso che sia la cosa più cattiva da dire a un essere umano tiè fammo passà da fessi sorda dai dai devi fare i test dell'urlo lo so non sono stata abituata a urlare da sola è che io urlo con voi perché sono contenta dovreste essere invece poi urli come un'aquila sì in live tendo a parlare alto in live tendo a parlare molto più alto di come parlo se mi venite a vedere a sentire a sentire o cazzo se mi venite a vedermi tipo mi conoscete di persona io parlo bassissimo io ho un tono di voce bassissimo vi stupirei che poi le persone che mi vengono a conoscere al comic con alla games week mi fanno yukali ma non urli perché non urli e che ne so nella vita reale sono bassa cioè confermo vedi conferma confermano le persone che mi hanno visto confermano le persone che qui ci spacchi i timpani sì in live sono più euforica non lo so se tiene la voce alta in live a me va benissimo no è che devo imparare a gestirmela un po' meglio non vorrei farmi detestare per forza con con le urla disastrose stiamo salendo delle cime tempestose belle o delle cime tempestose piccole che io non lo so comunque ragazzi io non so non penso che faremo a sto punto non penso che faremo la buba la buba la trasciniamo a lunedì lunedì ci finiamo la buba la maria scusate mi piaceva parlare di maria nome di mia cugina devo salire dovevo salire maronna mia non so dove cazzo devo andare prima di ritornare giù fatemi rifare un'altra volta il giro ho delle cime di rapa quelle siamo noi da quando non salviamo cazzo è che è andato tutto così bene fino ad adesso che mi son dimenticata di salvare è vero bravi l'esatto contrario di babba nel senso che babba in live è silenziosa cioè è bassa però di persone più alte è vero babba urla di persona babba ha la voce molto più squillante della mia cioè molto più non squillante squillante più io però lei ha la voce molto più alta della mia tantissimo cioè io parlo parlo così parlo molto piccolina 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 cioè sembro quasi ASMR quando mi conoscete di persona invece babba parla ah no minchia interpretazione di babba centocento oscar luigi scalfaro ah devo andare di là ah uh uh iup perfetto che attrice wave diceva alta di statura e bassa di voce queste sono cose che non confermiamo però medazione classico siciliano al cento per cento ora esce babba dall'urk no 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 penso che si stia cambiando le mutande dove sì dritto ma chi lo sa sì fortunatamente da siciliano da siciliana dico sì e se lo dicono i siciliani io basta ho il pass ho il pass che signor gorillaz feel good shake 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 feel good shake 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 fesse mammata via 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 prima che sia troppo tardis ma perché cosa nella vita perché è una bella domanda ce lo chiediamo tutti bellotta mi sta mandando 112 messaggi ragazzi perdonatemi controllo un attimo il cellulare perché mi ha mandato veramente troppi messaggi sono sull'aereo per san francisco buon viaggio ti è risposto ok a posto t'ha a posto così mi sta ancora rispondere ancora deve stare zitto quando sono in live che lui mi ha fatto no ma io poi arrivo tardi arrivo alle tre cioè poverino cucciolo lui che che pensa che io me ne faccia un problema cucciolino lui che dice no mi dispiace poi non non ci sentiamo fino a domani perché poi io arrivo che per te in Italia sono le tre di notte sti cazzi io pensavo sti cazzi senza offesa per bellotta qui vogliamo un bene dell'anima a tutti ciao reiel poveretto lo so ragazzi mi sento una man bellotta sta tornando per dire a tua mamma di chiamare i carabinieri basta magari è dispiaciuto di non sentire lo so ragazzi io lo so e vi giuro io sono la persona che ama di più in assoluto cioè io tutta la mia vita sei tu come le canzoni di Laura Pausini però su queste cose veramente non mi faccio minimamente il problema cioè devo andare in viaggio di lavoro non me lo faccio il problema di no ti devo scrivere che sono partita sono tornata sono arrivata e sono con gli amici e sono qui no fai quello che devi fare vattene a fare in culo vai vivi la tua vita ci sentiamo quando sei libero non cacarmi il cazzo ma questo lo voglio per me per gli altri pentiti che me devo pentire dove abbiamo aperto la porta secondo voi povero bellotta è il folio no è che allora io gli dico sei alla GDC ti piace quello che stai facendo avremo gli orari sballati non ti fare il problema di eh no però non ti preoccupare almeno una volta al giorno ti chiamo non mi chiamare non c'è bisogno non me ne frega capisco io sono come te il mio compagno è tutto ma ti spiace se vado dagli amici ma no vai appunto cioè vai non è su questo che baso una relazione fai quello che devi fare vai divertiti ecco là sono morto no cioè fai quello che devi fare divertiti stai a San Francisco sbomballati quando torni a casa tanto ci sentiamo non c'è bisogno di sbatti per venirmi a chiamare e mandarmi messaggi sono partito e sono tornato troppa ansia tranquilli perché non sei sull'aereo con lui che ci fai ancora qua perché il biglietto per San Francisco costava un sacco vai a fare zonzerie sì ma vai divertiti non ti preoccupare cioè non me la piglia male oddio sì sì se mi fa le corno la prendo a male il doeviro però insomma tralasciando questo piccolo fattore non me la prendo a male per sette giorni perché lui sarà via per sette giorni se per sette giorni non ci sentiamo non fa niente basta l'unica cosa che gli ho chiesto è quando hai un secondo di tempo tra un cocktail e l'altro e tra un puttanon e l'altro mandami un messaggio per dire sono vivo perché io ho paura che a San Francisco gli rubino il pancreas tutto qua cioè l'unica cosa di cui mi preoccupo è che gli rubino il pancreas poi tolto quello io gli ho detto fai quello che vuoi cioè puoi anche non mandarmi nemmeno un messaggio se non quello di una volta al giorno scrivermi sono vivo punto non era l'Atelandia ah era l'Atelandia perché proprio il pancreas è quello che gli funziona meglio e tu non avevi un sacco qualche sacco aspetta perché il pancreas ragazzi credo che sia un buon Maria si si ma sono viva sono viva poffarbacco pensavo di essere morta pensavo di essere morta salvo ma si che salvo salvo a me piace vivere in America ma sai non è salutare vivere in un paese dove no ma non è nemmeno quel fatto della pistola a parte si che letteralmente ti potrebbero sparare da un momento dalla sera alla mattina e che ansia però è un posto che comunque non conosci tu sei straniero e sei in viaggio e si vede che sei un turista a me la cosa che mi preme è che tu mi dica sono vivo basta una volta al giorno poi per me puoi andare a puttane cioè fai quello che vuoi scherzetto come quello di nascondersi in lavatrice ma io non ho chiamato i carabinieri eh quindi è inutile che fate allora tecnicamente io vorrei finire almeno il vorrei finire almeno il Colosseo secondo voi ce la facciamo a finire il Colosseo prima delle cinque vogliamo fare un pronostico Yucali ce lo finisce il Colosseo prima delle cinque ma come no ma madonna mia ma nessuno che si fida di me ma ho fatto il giro vai d'annaggia che non vedo niente non vedo niente dove devo andare io mi fido della dottora vedo che tutti si fidano madonna ma serio ma veramente ma non vi ho mai stupito con le mie abilità videoludiche mai quasi sempre ha ragione siete delle persone di merda di merda vi dico di merda no 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 fatemi un pronostico io voglio che la chat adesso scommetta ai propri punti secondo me ce la facciamo per le cinque ho sempre perso nei pronostici perché hai sempre pronosticato male amici è partito un pronostico Yucali ce lo finisce il Colosseo entro le cinque di pomeriggio o non ce lo finisce il Colosseo entro le cinque del pomeriggio io vi dico che ce la facciamo ragazzi siamo praticamente alla fine del Colosseo cioè è finito contro te a mettersi contro di me vedi mai 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 scorderai l'attimo la terra che tuo padre fa veramente il venditore di cazzi il venditore di cazzi ti dico sì bravo sparisci vai fai la tua magia ricordo la danza di madre natura è vera è vero vi lascio con la danza di madre natura o grido allo scam assolutamente no di gomma ma anche di carne un lavoro rispettabile come tutti d'altronde come tutti i lavori che a noi vanno bene sono e 41 ho 20 minuti io ho votato sì anche se non ce la fa citta e vince sempre lei è vero io non ho mai cittato ah non avevo previsto del platform mi sembrava tutto molto facile ho detto ah vabbè ma secondo me ce la faccio per le 5 non avevo previsto del platform però io ormai ho masterato l'arte della seduzione ecco qua ricordiamo che per il fuso orario di caserta le 17 non potrebbero coincidere con le vostre 17 sì ricordiamolo sempre che è importante che scusami questo questo posto diverso da ah ok si apre vabbè allora perdonato sì Lara girati bravissima oh sì baby toccami questa manovella ciao moon non citto ma non citto infatti impossibile cittare proprio per me sono una persona di facili di che ho alzato ragazzi cosa ho alzato ragazzi cosa ho alzato no aspetta mi sento turbata cosa ho alzato perché io non vedo perché io non vedo ciao il sina hai aperto una porta la porta fuori fuori dove mamma i bumbe ma giù forse di là forse ho aperto questa porta non hai alzato niente ho abbassato hai ragione immagino tra 20 minuti quando non riuscirò a farlo in tempo io vi ho detto le 17 non di quale giorno è vero vero anche questo no 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 ragazzi abbiamo finito il colosseo è finito guarda lì easy ah ma è aperta la porta e io che devo fare qui dentro quindi mi ci butto eh giusto perché mi sembra un luogo carino in cui buttarsi e poi non avevamo fatto ancora un momento sott'acqua ok saliamo oppla forse è un segreto avevo fatto l'in fai fai ma quale scam take scam non ho ancora fatto niente non mi avete ancora dato la possibilità di scammare quindi dove ci sono le gradinate uno degli angoli no 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 abbiamo già fatto abbiamo già fatto ma voglio soltanto capire dove porta questo posto tornando in topic con il gioco spero facciano la remaster del volume 2 con dentro il 4 il 5 il 6 di tomb raider non sarebbe male sai dove la devo portare questa cosa non sarebbe male sai a me tomb raider piacciono tutti in realtà cioè io non ho un tomb raider schiferito purtroppo ma perché l'ho detto che se ne dica che se ne dica ritorniamo sul sul fattore del di prima che se ne dica per me Lara ha sempre rappresentato l'emblema di donna cazzuta forte e indipendente poi il fatto che la gente si voglia indignare è sessualizzata non è sessualizzata assolutamente sì su questo siamo tutti d'accordo però a me le cose non cambiano io quando ero ragazzina non vedevo la sessualizzazione quando ero ragazzina vedevo una signora che sparava e gridavo al capolavoro ok c'è un altro rango ci sono due coccodrilli ed uno rango tango due piccoli serpenti e Lara spara male un gatto e un dopo e un elefante non manca più nessuno forse sto sparando un po' alla sorella del cazzo salva hai ragione mica è colpa sua se è anche una bella ragazza esatto il mio preferito è quattro il Revelation il Revelation l'ho giocato pochissimo ironicamente la sapete quale ho giocato tantissimo quello lì che hanno fatto subito dopo il Revelation che io non mi ricordo come si chiama ciao cicciolina ma bentorn house per il secondo mese nel frantra fra gazz nel fantastico mondo degli oranghi e anche dei tanghi scusate posso passare a questo punto ma sono gorilla e quindi Lost Chronicle era l'ultimo madonna non vedo niente Lost Chronicle era l'ultimo cioè quello dopo il ragazzi ma io questa roba l'ho toccata vero si l'ho toccata ok si no dopo il Revelation si chiamava Lost Chronicles si forse si perché erano varie storie di Lara se non sbaglio erano varie storie di Lara e quindi può essere che quello mi era piaciuto un botto ragazzi a me io per quale motivo nel film film sempre tra virgolette ragazzi ma qui sto tornando indietro quindi ho un dubbio ho un dubbio ho un gubbio no legend è quello dopo sei arrivata da lì e l'ora perché mi si è aperta la porta gioco scusa perché mi si è aperta la porta cioè io ho sbloccato la porta forse è per uscire alla fine perché io ho preso anche la chiave e la chiave mi pare che fosse giù i miei preferiti il 3 e il 5 no a me piace moltissimo il 2 il 2 è un altro che mi piace da morire mi è piaciuto tantissimo ma perché l'ho giocato veramente un botto il 2 e ho giocato poi tutti gli altri ma il 5 me lo ricordo proprio tale e quale e il motivo per cui ho messo Zippo nel mio film tra virgolette era perché ero in fissa per il 5 e una delle avventure di Lara nel 5 è il fatto che lei comunica con Zippo con il come si chiama con il microfonino devo ricordarmi dove è la porta non sono ancora le 17 non può essere l'uscita guarda quell'altra che ha votato contro di me che lei era la storia era in quell'episodio era nel la porta è nel palco VIP ok quindi è sopra va bene lei era nel nel come si chiama nel in questo enorme grattacielo e doveva salire di piano in piano mi pare per fare per rubare non mi ricordo che cosa mamma ricordo l'iride forse era proprio lì no l'iride era del 3 o del 2 sto facendo una marmaglia di roba comunque doveva rubare una roba e c'era con Zippo come si chiama sull'auricolare però non vedo la porta non è che è lì è lì è lì dentro ho come questa vaga impressione che sia lì dentro ho questa vaghissima impressione che sia lì dentro ok allora mo mi devo ricordare allora come si arriva lì ok devo vedere un attimo perché mo faccio il giro completo per come me lo ricordo io però se scendo di qui come salgo lì sopra come c'eravamo saliti lì sopra dio mio da sopra ho appena visto passare i carabinieri girintondo un altro finale 17 sono nel 48 ce la facciamo ce la facciamo però una ragazza non mi ricordo come si sale cioè tanta fantasia a pensare che sti così siano leoni eh lo so Silvia cioè devi pensare che comunque era il 96 a bicuore veramente era il 96 a tutti gli effetti a destra quindi qui sotto dove sto veramente andando ma qui ci sono gli spuntoni ok fermi 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 e voilà si era qui a posto devo correre il 5 per il pc era ingiocabile io li ho giocati tutti su ps cioè io tutti tomb raider credo forse solo il primo ho giocato per pc gli altri tomb raider gli altri tomb raider li ho tutti quanti giocati su ps 1 principalmente non anche perché era la mia prima vera console quindi insomma me la godevo con tutti i giochi possibili e immaginabili va bene allora ci siamo certo che ci siamo ovviamente la soluzione la dice che ha votato sì guarda che in realtà se ti vai a controllare gioco non ha proprio votato stronzo non ha gioco stronzo a camo gioco una bra la mia realtà è una merda non può correre più di così Lara 5 era per ps2 io non l'avevo olè dai muoviti arrivo corro 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 non farmi perdere la mia prima bet ragazzi dovete fidarvi di me non vi ho mai deluso ovviamente le 5 vuol dire 5 e 5 il 5 era per ps1 ma non mi ricordo per quali fossero eh io mi ricordo che era nel sicuramente cioè io la maggior parte li ho giocati per ps1 non c'è tolleranza sapete che vi dico tiè così mi succhiate la milza e rifaccio soltanto questo pezzo ha criminali ha credete di avere a che fare con una burbera e invece sono io the princess of video games era per ps2 la psx l'avevo perché non serve finché non diventa la 999 no troppo non siamo mica dei poracci io c'avevo pure la ps2 per carità ragazzi poi dalla ps1 insomma io ho sbloccato letteralmente l'accesso a qualsiasi console possibile immaginabile perché i miei si erano sottostati al fatto che mi piacessero i videogiochi però fino a quel punto c'avevo un cazzo ok sì se magari Lara tua mamma fa la gnorri ti le piacciono gli gnocchi e allora mangiamoli insieme come faccio ad ammazzare una cosa che nuota più veloce di me chissà se è la strada giusta non credo secondo me vi ho mai deluso? non è stato nemmeno necessario scammare oggi vi ho mai deluso? vi ho mai deluso? la risposta è sempre no yucali mai mai spesso meno male stavolta no ma che che diobbo senza parole ragazzi senza parole senza parole e la porta dove portava? eh gioco bella domanda cioè il punto è quello è che si è aperta la porta secondo me sai che cos'è? fai anche gli achievement platino l'ulit volendo sì se la mia community lo vuole sì io mi rifaccio a loro loro sono i miei datori di lavoro mi hanno schiavizzato no no guarda terribili datori di lavoro mi frustano ogni giorno io se vogliono sì li facciamo volentieri cioè per me platinarlo non ci sono problemi ci vorrà un po' però non ci sono problemi